E' impressionante. Qui siamo a Montescaglioso, siamo al comune di Ginosa. Nel 2013 è venuta giù la strada, dopo giorni di piogge intense. Quindi sono cinque anni che qui non è cambiato nulla? Sì, sembrerebbe finalmente che in questi giorni stiano partendo i primi cantieri. Come è venuta giù questa strada? Perché le infiltrazioni d'acqua che si sono accumulate dal tempo, le costruzioni a monte hanno cambiato profondamente il flusso delle acque. Piegato dalla forza della frana, qui l'asfalto sembra di burro. Qui si intuisce il guardrail di dove passava la strada. Come si è arrivato a tutto questo? In realtà si è persa completamente la consapevolezza, oltre che la memoria, del vivere lungo i fiumi. Quando tu a monte dei cinque fiumi di Basilicata costruisci le dighe, a valle ci sono ormai solo dei rigagnoli. Spesso durante l'anno non li vedi. E quando piove? E quando piove improvvisamente, anche per effetto di un territorio mal gestito e di opere che sono invasive, l'acqua arriva improvvisamente e produce danni straordinari. Qui la forza dell'acqua ha diverto il muro di contenimento. Qual è il primo pensiero guardando questo? Non c'è cemento che tenga se tu un versante della montagna come questo non lo rispetti. Noi come comitato per la difesa dei terreni che stiamo realizzando un progetto per chiedere che i fiumi di Basilicata diventino patrimonio dell'UNESCO. Può essere un elemento di riscatto.